Buonasera a tutti gli eventuali ascoltatori, stasera parliamo di questo libro I siciliani nella Resistenza, è un libro a cura di Tommaso Baris e di Carlo Verri ma di molti autori, Malbanese, Asta, Baldessara, Baris, Blando, Coco, D'Amico, Della Valle, Di Figlia, Figurelli, Mangiomeli, Micichi e Peli e Roatti e Silvestri, cioè è un'opera collettiva che nasce da un convegno come spesso accade pubblicato da Sellerio che è un convegno del 2019 e è un tentativo di mettere assieme gli studi sulla partecipazione dei siciliani nella Resistenza. Allora non la Sicilia e la Resistenza perché come è noto e come è giusto riaffermare la Sicilia è fuori dai giochi della guerra nel momento in cui si avvia l'8 settembre. È stata liberata prima, liberata, occupata come potete voi, il 10 di luglio del 1943 e proprio la vicenda siciliana, l'occupazione della Sicilia, provoca la caduta del fascismo che è il 25 luglio, quindi le date sono quelle e poi successivamente quello che accade. Nel frattempo a Cassibile, nelle vicinanze di Siracusa, allora era frazione di Siracusa, si e viene firmato l'armistizio che poi il 3 settembre, che poi sarà promulgato l'8 settembre, ma l'8 settembre già le armate anglo-americane sono sul continente, sulla penisola, quindi la Sicilia è fuori dalla guerra. Sono avvenuti degli episodi molto gravi di uccisioni e di stragi in Sicilia lungo la linea del fronte durante la battaglia, anche qualche ribellione da parte dei siciliani, ma non possiamo parlare di una vera e propria resistenza. Mentre invece i siciliani che partecipano alla resistenza sono coloro i quali, per un motivo o per un altro, ma soprattutto per motivi di servizio militare si trovano al di là del fronte in Italia settentrionale oppure centro-settentrionale o nelle zone occupate come la Jugoslavia o la Grecia in modo particolare e lì molti soldati, chi non finisce cucilato, chi non finisce tra gli internati militari italiani e riesce a scappare, si aggrega a gruppi di resistenza locali. Bene, la partecipazione della Sicilia, dei siciliani alla resistenza è una partecipazione notevole, nonostante questo decentramento della regione rispetto ai luoghi della resistenza. Perché? Perché intanto la Sicilia è una regione molto popolosa, è una regione più popolosa del sud e quindi proporzionalmente i giovani siciliani delle classi 22, 24, eccetera, sono presenti nell'esercito italiano, o anche precedenti, sono presenti nell'esercito italiano nel momento in cui si sbanda. L'altro motivo è che difficilmente possono tornare a casa, perché c'è la linea del fronte da attraversare, è un fatto molto difficile e quindi devono trovare riparo laddove stanno, laddove si trovano e questo li spinge spesso alla scelta resistenziale da aggregarsi in bando. Questo è il dato più macroscopico che produce una cosa importante, produce una grande partecipazione, una notevole partecipazione dei siciliani alla lotta di liberazione, in modo particolare in Piemonte, dove sono aggregate delle unità dell'esercito, del regio esercito molto consistenti, ma anche nelle altre regioni. In Piemonte sono circa 2.700 siciliani combattenti che partecipano alla lotta di liberazione. In tutte le altre regioni in cui si combatte la lotta di liberazione, la guerra di liberazione, i siciliani sono la pattuglia più numerosa dei meridionali presenti, quasi sempre così. Non solo, ma se pensiamo a Piazza della Loreto, alla Piazza dei Martiri di Udine, a Bologna, altri luoghi di questo genere, troviamo sempre tra i morti un siciliano. E questo sta a testimoniare anche della presenza attiva di queste persone. Dal punto di vista qualitativo, i siciliani sono anche importanti, basta pensare al Colai Anni in Piemonte e a tutto il suo gruppo di comando, tra cui il portabandiera famoso della sfilata dei primi di maggio del 1945 a Torino, eccetera, la sfilata partigiana. Ma non solo lì, in tante altre regioni, in tanti altri luoghi ci sono comandanti partigiani importanti come i fratelli di Dio, per esempio cattolici, eccetera. Quindi c'è un elemento qualitativo. Da dove viene questo? Viene anche da un antifascismo che era stato vivo, coltivato anche in Sicilia, come tutto il resto del paese, anche se molto minoritario, come sappiamo, eccetera. Quindi questo è il quadro generale che abbiamo voluto ricostruire, a cui abbiamo voluto dare un contesto, raccogliere le storie, eccetera. Anche perché la narrazione, tutto subito, della storia della partecipazione dei siciliani alla resistenza, in modo molto strano ma spiegabile, è stata fatta spesso fuori dalla Sicilia. Se guardate la bibliografia esistente, quella consultabile, eccetera, e molti libri dedicati al partigiano siciliano, la loro esperienza di combattenti in varie parti d'Italia, eccetera, sono pubblicati nei luoghi in cui sono stati protagonisti della guerra e non nei luoghi di partenza. Questo dice molto di questa vicenda, cioè uno sfilacciamento di questa memoria che in Sicilia ha avuto una grande difficoltà ad affermarsi, ad essere riconosciuta, per tanti motivi di cui si parla nel libro, magari poi ne riparliamo, ma ecco, l'operazione che abbiamo voluto fare è stata quella di mettere assieme queste cose, di darne una spiegazione e di collegare come compito degli istituti nostri, dell'Istituto Parri, ma anche dell'Issico, che io rappresento, l'Istituto Siciliano per la storia dell'Italia contemporanea, e nel frattempo dico anche che contribuiscono a questa presentazione l'Istituto Grammici Siciliano e la Società di Storia Patria per l'Asilio Orientale di Catania. Come nostro compito, compito di tutti questi istituti di ricerca e di dibattito storiografico che ho citato, è quello di mettere assieme le parti diverse, le storie diverse, diciamo, dell'Italia in una unica e grande storia che non sia solo storia italiana. Bene, io ora ringrazio i partecipanti, in modo particolare Isabella e Mirko Carattieri per aver accettato di presentare questo libro, partecipare a questa conversazione e prego Isabella, forse lei che vuole cominciare, di dire quello che vorrà dire. Grazie. Grazie, grazie Saro, grazie anche per l'invito che ho accolto molto volentieri perché ho studiato, avevo già letto il libro, l'avevo studiato con attenzione, sono, come sapete, attenta al tema della resistenza, ovviamente, della partecipazione dei meridionali tutti alla resistenza, essendome in parte occupata anch'io. Questo è un gran bel libro, molto utile dal discorso generale sulla resistenza in Italia, in Europa, è molto utile anche perché si inserisce, secondo me, nel discorso storiografico sul significato plurale di resistenza, pur confermando la centralità della sua prima declinazione, che è quella della guerra partigiana, della lotta armata. I tanti siciliani di cui parlate del libro e di cui parliamo nei nostri discorsi fecero innanzitutto la lotta armata, parteciparono alla resistenza in Piemonte e in tutte le regioni del centro nord. Furono per lo più uomini, anche se, come fai notare anche tu, Saro, ma anche i nostri curatori, ci furono anche delle donne, la cui presenza, come al solito, è riferita meno dalle fonti, è riferita meno dalla memorialistica, ma le donne che erano presenti nelle regioni centrosettentrionali e che provenivano per storie familiari, storie di immigrazione lavorativa, storie di immigrazione politica, furono anche partecipi e presenti appunto alla resistenza. Impossibilitati, per lo più, quando militari a tornare a casa l'otto settembre, entrarono nelle bande partigiane e molto spesso parteciparono alla loro costituzione, quindi alla prima resistenza. Questa ricerca si inserisce, questa ricerca ha più voci, si inserisce in un fulone storiografico che è stato, si è rinnovato negli ultimi anni, soprattutto grazie agli sforzi di Claudio della Valle e di tutto l'Istituto Piemontese, che insomma più recentemente ha dedicato molti dei suoi sforzi scientifici, professionali, alla ricostruzione anche delle biografie di questi partigiani meridionali che operarono in Piemonte. Io ho partecipato ad alcune di queste ricerche e l'ho fatto veramente volentieri. Che cosa ci dice queste nuove ricerche, questa nuova ricerca a cui questo libro contribuisce? Innanzitutto ci ricorda che la prima resistenza dei partigiani fu spesso qualcosa di scelto in maniera pre-politica e questo ovunque questa scelta fu fatta, indipendentemente dalle coordinate geografiche, c'era la necessità di nascondersi, di difendersi dalla cattura che i reparti tedeschi spesso con la collaborazione fin dal primo momento di reparti fascisti tentarono di effettuare, quindi la necessità di difesa si dovette trasformare necessariamente appunto anche in attacco. Questo dato pre-politico era ovviamente destinato a maturare e a evolversi ovviamente dovrebbe il tempo e l'occasione di farlo. Quindi la possibilità della resistenza fu una questione di tempi più che di luoghi, cioè si sviluppò quando ci fu il tempo perché questa maturazione appunto avvenisse. Così come è discutibile ovviamente il tentativo di trovare in determinati ambiti maturazioni che non poterono esserci, è altrettanto discutibile però la negazione di tali possibilità sulla base di parametri sociali, spesso antropologici o appunto geografici. Il volume ci racconta che l'8 settembre la situazione era così fluida e così immobile, con gli italiani sparsi un po' ovunque sul territorio nazionale e non soltanto ma anche il territorio estero, che la resistenza è difficilmente catalogabile con aggettivi geografici. Certo i meridionali nelle formazioni partigiane che operarono nelle regioni settentrionali restarono una minoranza, come ci ricorda uno dei saggi contenuti nel libro, ma questa mi sembra insomma abbastanza una cosa ovvia per ragioni appunto geografiche e non scientifiche. Quella resistenza si sviluppò soprattutto in aree abitate da settentrionali o da centrosettentrionali ed ebbe come principali protagonisti, oltre ai soldati dell'8 settembre, gli uomini in età di leva che si rifiutarono di servire Salò. E questo insomma è un dato generale che i saggi scientifici che sono anche riportati nel libro sulla resistenza in generale ci ricordano. Il volume è diviso in tre parti però secondo me racconta quattro livelli del discorso, la resistenza in termini generali, la resistenza italiana quindi sul territorio nazionale, la resistenza meridionale o dei meridionali e i siciliani nella resistenza. Nella prima parte dopo un importante saggio di Gaetano Silvestri su resistenza e costituzione, e a me sembra sempre importante e attuale ricordare il legame, Baldissara, Baris e Pelici forniscono un'importantissima contestualizzazione storiografica di questo tema, sottolineando quanto anche la storia della storiografia, cioè di quello che noi studiamo, dunque il contesto in cui noi studiamo e ci muoviamo, sia necessario a capire le tematiche affrontate. Questo ci ricorda, lo ricordo a noi ma anche a chi legge il libro o ci sta ascoltando adesso, quanto i nostri studi sul passato vengono da domande del presente. Ad esempio è chiaro ed emerge bene dal saggio di Baris che la ripresa del discorso sul ruolo del mezzogiorno e dei meridionali nella fase che ci interessa, 43-45, già recuperato in passato, in particolare negli anni caldi della cosiddetta fine della cosiddetta prima repubblica, sia scaturito in questa fase più recente anche dalle sollecitazioni intervenute in occasione del centocinquantesimo dell'unità. Voi mi direte è passato del tempo, da allora è vero ma la storiografia ha per fortuna secondo me dei tempi piuttosto lunghi rispetto al discorso giornalistico, al discorso di un'opinione pubblica, quindi questo interesse viene a mio parere anche da questo. Nella seconda parte del libro si entra un po' nello specifico insomma del tema, cioè quello dei siciliani nella resistenza e anche della Sicilia nel quadro storico compreso tra fascismo, guerra e dopoguerra. In particolare i saggi di Della Valle, Rovatti e Mangiameli affrontano il discorso generale pur raccontandoci anche dei casi specifici di siciliani attivi nel centro nord che ci ricordano come diceva appunto Mangiameli poco fa, essere stati più numerosi tra i meridionali e giustamente ci si chiede anche il perché e si ricorda la motivazione demografica. La Sicilia era e forse è, io adesso non lo so ma credo che sia comunque la regione più grande, la più popolata dell'attuale mezzogiorno così come lo era all'epoca. D'Amico ci fornisce dei dati sui meridionali nei lager, figurelli, asta e blando ci descrivano invece delle esperienze belliche all'interno di discorsi interessanti di lungo periodo, dimostrandoci quanto la scelta resistenziale non fu solo qualcosa di estemporaneo ma nacque spesso dall'incontro tra quello che noi definiamo antifascismo storico dei meno giovani e l'antifascismo nato ad esempio sotto le bombe oppure al fronte delle generazioni più giovani. È un dato ovviamente calato nel caso specifico ma che è applicabile e lo sappiamo bene, ce lo dicono ancora Baldessara e peli nel libro, ha tutta la resistenza. Ho apprezzato molto in questa seconda parte i saggi di Vittorio Coco e Antonino Blando, cioè il discorso sull'altra parte, sui siciliani nella RSI, una cosa che Quazza e Pavone ci invitano a fare da tempo, da molto tempo e il percorso su alcune biografie che ci ricorda come i mali profondi della nostra Repubblica vengano appunto da lontano. C'è la ricostruzione di alcune vicende di siciliani anche molto illustri, da intoccabili come Pirandello e la sua inchinarsi al regime nel momento cruciale dell'assassinio Matteotti, ma anche vicende meno note, Gaspare Ambrosini, Giuseppe Cocchiaro, Viaggio Pace, Giuseppe Maggiori, che furono tutti volenterosi intellettuali messisi al servizio del fascismo e soprattutto della sua politica razziale, che praticamente non passarono neanche sotto l'epurazione e che nel dopoguerra ritornarono al potere, che fosse un potere politico, accademico, scientifico e che tuttora hanno strade intitolate, premi intitolati, aule universitarie intitolate. Io invito chi ci ascolta a leggere con attenzione il saggio di Blando perché ho fatto una verifica e su Wikipedia, per dire insomma sulle pagine più frequentate di internet, queste parti della storia personale di queste persone non sono, sono sistematicamente taciute, insomma è tutto un elogio alla loro memoria gloriosa. Riguardo all'altra parte, me lo dico così in passato, ho apprezzato molto nel saggio di Sarola la ricostruzione della vicenda dei non si parte, che è una vicenda complessa che al resto del mezzogiorno manca e che ci descrive come se si fosse sviluppato un antifascismo profondo pur senza passare attraverso la resistenza. Non posso ovviamente soffermarmi, però ho apprezzato molto questa parte. Infine la terza parte con i saggi di Di Figlia, Albanese e Miciche che ci ricordano che la resistenza appunto non fu fatto solo di venti mesi ma che oltre al prima ebbe un dopo. Il volume copre un arco temporale molto lungo che va dal primo fascismo agli anni Sessanta. I tre saggi molto belli di Figlia sull'importante archivio ancora in parte inesplorato di Colai Anni, Albanese sulla narrazione pubblica della resistenza da parte dello stesso comandante Barbato e Miciche sul rapporto tra resistenza luglio Sessanta e PC siciliano, sviluppano appunto un discorso relativo alla fase successiva alla fine della guerra. Da tempo chi si occupa di questi temi ritiene che l'approfondimento del dopo sia importantissimo, cioè capire quanto di resistenza arrivò nelle vite di chi la fece la resistenza che poi tornò a casa in particolare ovviamente dei meridionali. Già Pavone ce lo suggeriva questo anni fa ed è un fondamentale banco di prova secondo me, secondo tanti in realtà, per capire quanto di quelle eredità, del patrimonio guadagnato nella resistenza diventò poi vita quotidiana durante il tempo di pace. Il discorso è ovviamente siciliano ma apre molti squarci sulla vicenda politica nazionale e addirittura internazionale, molto interessante. Il filo rosso è Colai Anni, che Sara citava poco fa, ma c'è anche questo riferimento molto interessante a Placido Rizzotto e alla memoria difficile della sua vicenda. Placido Rizzotto resta, Sara tu lo scrivi, noto come vittima di mafia, mentre c'è una sorta di vuoto sulla sua partecipazione alla vicenda resistenziale che fu in realtà importante ma che stranamente poi magari se vorrei dirci qualcosa non è entrata nel discorso pubblico. Io vorrei concludere dicendo altri due minuti di cose dicendo che questo libro così ricco affronta il tema o meglio la questione meridionale della resistenza in in modo molto saggio e molto utile. Questa questione ha avuto nel tempo diverse evoluzioni e non possiamo dire in realtà che oggi sia risolta. Le parti coinvolte, anche geografiche, passatemi il termine, hanno prodotto alcuni equivoci interpretativi difficili da riassumere in poche parole, ma presenti e affrontati con pienezza scientifica penso del libro. Il Sud per esempio ha sbagliato in questo. Per troppi anni il discorso sul mezzogiorno e sul suo ruolo nella resistenza è stato portato avanti da una storiografia locale, direi tra virgolette, che ne ha fatto soprattutto una base di rivendicazioni politiche da spendere nel locale, fragile se non fragilissima da un punto di vista scientifico ma molto piena di retorica, insomma priva di fonti e piena di retorica. Ovviamente questa storiografia o meglio letteratura non era l'unica disponibile ma era quella che faceva più rumore e che quindi si conosceva meglio all'esterno, cioè al centro nord, che ha considerato quel tipo di letteratura come l'unica disposizione, non lo era, e che ha fatto degli errori interpretativi nel confondere ad esempio il Sud con il Regno del Sud, che furono due realtà diverse e non sempre facilmente dialoganti tra loro, oppure nel voler applicare esclusivamente determinati parametri alle cose e ovviamente svalutandole, per esempio la considerazione prettamente militare della resistenza oppure l'accavallamento tra politico e partitico che c'è stato. Ovviamente noi lo sappiamo che la battaglia che si combattì al Sud non poteva essere uguale a quella del Nord, però perché non ci fu il tempo di sviluppare una battaglia del genere, direi per fortuna perché sennò voleva dire tenersi i tedeschi più a lungo e farci arrivare anche i fascisti. Ciò vuol dire però che non vuol dire che non ci fu, fu quello che poteva essere. Anche il Sud ha sbagliato in questo senso, cioè ha voluto guardare le cose con gli occhi del Nord, se mi permettete queste cose. Ce lo ricordate voi molto bene Baris e Mangiameli quando ci parlate ad esempio di quello che diceva Sareo prima, cioè di quelle stragi che avvengono in Sicilia e che una parte di interpretazione Franco Pezzino ha voluto vedere come anticipazioni della resistenza. In realtà quelle furono solo tra virgolette ovviamente delle stragi tremende che tutt'al più anticiparono quella che sarebbe stata la politica occupazionale dei tedeschi, ma non la resistenza. Questo errore di confondere strage e resistenza è stato fatto svariate volte, cioè almeno attribuire la resistenza al fatto che ci fossero state delle stragi, in realtà non fu sempre così e lo sappiamo molto bene. Deriva da quello Baris scrive, l'idea di dover dimostrare la possibilità di paragone, dall'ansia di esserci per forza che alcune parti del Sud hanno dimostrato e di essere uguali ad altre parti d'Italia. Eppure in uno strano cortocircuito di memoria e interpretazione la negazione assoluta degli episodi resistenziali del Mezzogiorno ha portato a lungo a sottovalutare anche le stragi che furono invece un fenomeno molto consistente per alcune parti del Mezzogiorno. Ancora oggi, nonostante siano passati tanti anni dagli studi di Gabriella Gribaudi ai quali Tommaso Baris ha partecipato e ci sia l'Atlante oggi a disposizione di tutti, anche in un saggio del volume si parla dell'eccidio di Boves come il primo eccidio sul territorio nazionale. Dimenticando, sappiamo noi con certezza numerica oggi che prima di Boves ci furono, lo dico perché sapete che all'Atlante tengo scientificamente molto, 623 vittime in 176 episodi di strage. Allora io credo, concludendo che sia giunto il tempo, grazie a libri come questo e allo sforzo scientifico che stiamo facendo tutti, di delocalizzare alcuni discorsi, smettendo di attribuire meriti, demeriti a seconda di parametri geografici a quelli che sono dati storici. Ad esempio, è vero che la resistenza fu scelta obbligata dei meridionali al nord che non potevano tornare a casa, però avrebbero potuto anche scegliere Salò o altrettanto fecero, stessa scelta fecero, tanti remitenti settentrionali che scienzero la resistenza. Ancora non credo che sia negativo, eppure tanti, soprattutto meridionali, considerano, continuano a pensarlo, che alcune motivazioni siano state pre-politiche e la stanchezza della guerra è una motivazione legittima, a mio parere, e che sia una cosa positiva che alcune proteste siano state spontanee e che vi abbiano preso parte ampi strati popolari. Non si sa perché se le cose avvengono al sud sono negative quando invece hanno delle caratteristiche positive. Queste sono soltanto alcuni degli elementi e Baris ce lo spiega bene qui, ce l'ha spiegato bene anche Gianni Cerchia in un volume del 2016, poi riedito nel 2019, che la classe politica e intellettuale meridionale ha grosse responsabilità in questa errata interpretazione delle cose. Ultima cosa, questo libro ci ricorda una cosa molto importante di cui dobbiamo tenere presente noi storici, ma non soltanto noi, cioè che il sud non fu un blocco compatto, un monolite, tutto uguale, attraversato da determinati eventi storici. I sud furono diversissimi. Io penso sempre questo, rispetto al nord delle bande partigiane della resistenza organizzata, Roma era sud, anche la stessa Roma si vedeva come parte del sud, ma rispetto alla Sicilia che non ebbe la resistenza perché l'8 settembre arrivò dopo, Napoli è quasi centro nord, quello che avviene a Napoli. Quindi questo parametro geografico che è complicato da gestire ma è imprescindibile va tenuto presente e uno studio così delocalizzato, se me lo permettete lo dico in senso positivo, è un grosso aiuto per tutti quanti noi, quindi innanzitutto vi ringrazio. Grazie a te, certo quando il duca di Carca ci andò al congresso di Bari, partendo da Catania, pensò di essere in una brumosa e nordica regione, era un capo dei separatisti. Anche quello è uno che semplifica bene. Bene, allora passiamo a Mirko. Mirko Carrettieri, tei presente? Ci sono, ci sono. Grazie intanto a Isabella per la sua esposizione così chiara e anche affettosa. Mirko, a te la parola, grazie. Grazie, grazie a Saro e grazie agli autori di questo libro, in particolare ai curatori che sono qui con noi. Credo che questo libro, come anticipava Isabella, sia particolarmente importante per la storia della Sicilia ma anche per la storia nazionale. Mi fa molto piacere partecipare a questa presentazione, non solo perché tra gli autori ci sono molti collaboratori della rete del Parri, ma anche perché appunto vengono sollevate una serie di problemi davvero di rilevanza nazionale. Mi soffermerò prevalentemente su questi, senza però trascurare appunto l'interesse specifico della vicenda della Sicilia e dei siciliani e faccio notare, insomma mi sembra significativo, il cambiamento del titolo del libro rispetto a quello del convegno. Come diceva Saro, il libro si intitola I siciliani nella resistenza, il convegno invece si intitolava La Sicilia nella guerra di liberazione. Ma nella prima parte, come diceva Isabella, ci sono dei saggi che hanno una valenza generale e che ci pongono delle problematiche importanti, a partire da quello di Silvestri sul rapporto tra la resistenza e la Costituzione, un rapporto che ovviamente non può essere più inteso in maniera strettamente lineare, anche perché il collegamento tra il 25 aprile e il 2 giugno, per usare le date di riferimento, è un collegamento importante, ma non bisogna appunto dimenticare la specificità del 2 giugno che non era necessario dopo il 25 aprile, ma ci ricorda però che è necessario dare la dovuta importanza al passaggio dalla resistenza alla Costituzione. Silvestri si richiama alle definizioni un po' spregiative di Salvemini, all'idea del compromesso e ricorda che invece con Bobbio forse si può parlare più che altro di combinazione delle diverse culture politiche, addirittura suggerisce l'idea che ci sia una sorta di fusione delle principali culture politiche che trovano un minimo comune denominatore ad alto livello e ci ricorda anche soprattutto il fatto che le accuse post fine della Prima Repubblica che hanno attaccato proprio il passaggio costituzionale attribuendoli tutte le colpe del dopo sono assolutamente anacronistiche, quindi vanno rigettate. Molto importante mi sembra anche la ricostruzione sulla storia della storiografia resistenziale fatta da Luca Baldissara, anche perché supera un po' quella che è la ricostruzione ormai canonica, cioè diciamo per semplificare battaglia Quazza-Pavone, ricordandoci altri passaggi molto importanti nella storia della storiografia sulla resistenza. Penso ai volumi promossi in Piemonte all'inizio degli anni sessanta, proprio da Quazza, giustamente Baldissara ricorda la tesi e poi il libro di Anna Bravo, ricorda il primo libro di Giampaolo Panza, bontà sua, e ricorda anche il lavoro di Massimo Lignani sulle zone libere. Un altro passaggio interessante che Luca illumina è quello degli anni Ottanta e in particolare dei convegni della Fondazione Micheletti, che ricordo con grande piacere anche perché è rientrata nella rete del Parri, ci fa molto piacere, proprio dopo l'estate avremo un importante convegno di nuovo alla Fondazione Micheletti sul sfruttamento economico della RSI da parte dell'occupante tedesco e giustamente qui Luca ricorda gli importanti convegni sulla RSI e sulla guerra 40-43 che hanno cambiato un po' la prospettiva della storiografia resistenziale. Infine l'accenno alla resistenza difficile, all'ultima stagione del post pavone, a quanto scrive Santopeli, ma anche a quel bellissimo libro di Mario Calegali, La Sega di Hitler, tra l'altro di recente ripubblicato, che è davvero un libro provocatorio ma anche molto stimolante, che ci ricorda che le semplificazioni, le generalizzazioni non vanno d'accordo con la storia della resistenza. C'è poi appunto il saggio di Santo, di Santopeli, che è molto interessante perché tematizza la questione del rapporto tra i resistenti e le comunità dentro le quali si trovano a combattere. Soprattutto ci ricorda un elemento che troppo spesso tendiamo a dimenticare, cioè la peculiarità della differenza, diciamo così, tra coloro che fanno la resistenza sul loro territorio per difendere il loro territorio e coloro che invece la fanno da esterni, da forestieri, come dice lui. Mentre ovviamente gli autoctoni hanno tutta una serie di caratteristiche della loro lotta, tra le quali la principale è anche lo sforzo, se si avverte anche al Sud, di evitare lo scontro diretto con i tedeschi e le rappresaglie verso la popolazione civile, ebbene ovviamente i forestieri si presentano in genere con altre caratteristiche anche di radicalizzazione della lotta e questo ha delle conseguenze molto significative. Anche questo è un tratto che appunto vediamo nei comandanti partigiani del Sud che sono protagonisti al Nord anche in questo libro. Infine nella prima parte c'è il saggio di Tommaso Baris che appunto ci parla di quella che è il rapporto tra la dimensione meridionale e la resistenza e scusami Tommaso se semplifico ma diciamo così ci fa passare attraverso quelli che sono stati gli atteggiamenti più diffusi, cioè in prima battuta l'idea che la resistenza al Sud non ci sia stata e che quindi il Sud non andasse studiato dentro la storia della resistenza. Poi l'idea viceversa è che il Sud andasse studiato usando i parametri del Nord e che quindi chiaramente diciamo così venisse a secondo una storiografia della mancanza per così dire. E poi la stagione inaugurata se vogliamo da Nicola Gallerano dell'idea che il Sud avesse avuto un altro dopoguerra, che ha portato a numerose importanti ricerche ma che scontra anche essa ovviamente alcune delle difficoltà che citava prima Isabella. Di qui quindi l'esigenza di studiare la resistenza, le resistenze, gli episodi di antifascismo al Sud come uno degli elementi che compongono il quadro composito delle resistenze al plurale come già diceva la insolvibile. E questo lo vediamo proprio analizzando le diverse categorie che sono entrate dentro la storiografia resistenziale Tupur negli ultimi 20 anni appunto dagli internati militari alle vittime delle stragi fino ai remitenti alla leva per non parlare della resistenza civile. Ecco l'analisi di tutti questi aspetti ci porta a incontrare anche la dimensione meridionale. E qui faccio una prima domanda proprio a Tommaso, ovviamente nel libro emerge molto, l'accennava anche prima Saro, cioè il tema dell'insularità legato all'autonomia, però mi chiedevo se appunto oltre alla categoria di meridione non valga la pena di lavorare anche su quella di insularità soprattutto in chiave diciamo internazionale riguardo alla tematica dell'antifascismo. C'è poi la seconda parte come si diceva in cui non voglio entrare troppo nel dettaglio, ho trovato anch'io di grandissimo interesse il saggio di Saro, quindi sembra che ci siano alcuni elementi significativi innanzitutto come già si accennava il fatto di analizzare il 43-45 nella dimensione del rapporto tra chi sceglie l'antifascismo e chi sceglie invece il fascismo e proprio questa scelta del fascismo a livelli come diceva Isabella intellettuali ma anche a livelli amministrativi è molto interessante. C'è poi la questione su cui appunto vorrei fare una domanda a Mangiameli delle due generazioni, ritorna molte volte anche nella trattazione del tema in Sicilia l'idea che il rapporto tra antifascismo e Sicilia si giochi dall'incontro o dallo scontro tra due generazioni quella degli antifascisti storici e quella dei giovani resistenti. Ecco siccome mi sembra che anche all'interno del libro stesso ci siano sfumature diverse su questo mi chiedo di ribadire un po' quello che dice nel saggio cioè lui fa notare come molto spesso non ci fu un incontro almeno in Sicilia almeno questo io ho capito da lui non ci fu sempre un facile incontro tra queste due generazioni. E poi c'è questo genere accennata con l'introduzione da Tommaso e Carlo ripresa adesso da Isabella che mi pare importante anche perché ci riporta alla dimensione delle filiere familiari della resistenza che è un tema che sta ritornando di interesse soprattutto relativamente ai nuovi studi sulla resistenza ebraica cioè la dimensione familiare della resistenza mi sembra un tema interessante, dei gruppi familiari nella resistenza. La terza parte quella relativa alle memorie è davvero molto interessante, si parla molto di Barbato come protagonista della resistenza ma anche come politico e anche come si diceva come storico della resistenza, mancato storico della resistenza. Però c'è un altro protagonista che è Gerola Molicausi in questo libro e nella resistenza e nel dopo resistenza siciliano mi sembra molto importante non solo per il saggio che gli dedica al suo bravo biografo ma anche perché siamo nel centenario del PC e anche il tema PC Sicilia mi sembra un tema di grande interesse tanto più alla luce di questo volume. E appunto a proposito di PC un altro tema molto interessante che emerge dalla questione memoria e anche questo forse specificamente siciliano sarà forse perché la categoria l'ha almeno di recente rimessa in campo Salvatore Lupo, la Sicilia è la patria dell'anti-antifascismo o comunque è al centro di tante sfumature di anti-antifascismo che vale la pena di distinguere oltre che di sommare. Altra questione che emerge qui è quella delle peculiarità del reducismo. Anche qui ne parla Saro, non solo lui, sembra avvertirsi ancora più che in altre parti d'Italia un grande scarto tra chi fa la resistenza mentre la fa e quando torna a casa sua con situazioni addirittura non solo di indifferenza ma anche di grande difficoltà e anche su questo magari se ci dite qualcosa può essere interessante per il nostro pubblico. E infine concordo molto con quanto dice Carmelo Albanese alla fine del suo saggio e cioè anche la necessità di declinare in chiave locale il discorso pubblico e le politiche della memoria perché oggi noi abbiamo a disposizione dopo i lavori soprattutto di Focardi, di Cook e di tanti altri dei quadri sintetici sulla memoria pubblica della resistenza in Italia ma solo attraverso la declinazione nei casi locali possiamo capire come sono stati utilizzati nel loro appunto per usare il termine di Gallerano uso pubblico e qui viene fuori molto bene relativamente all'uso pubblico che della resistenza fanno da una parte il PC dall'altra per certi aspetti anche la democrazia cristiana nel contesto siciliano. E qui la domanda la vorrei fare a proposito del saggio di Miciche perché ovviamente io sono di Reggio quindi anche per me il luglio 60 è un passaggio importante nella storia della Repubblica e quindi vi volevo chiedere se condividete quello che scrive Miciche nel suo saggio cioè che il luglio 60 ha rappresentato per la memoria pubblica siciliana un passaggio per certi aspetti cioè una maggiore incorporazione nella memoria pubblica nazionale e da un certo punto di vista anche una modernizzazione cioè l'uscita da quello schema che legava la resistenza in modo quasi meccanico alle lotte contadine e o all'autonomismo e che si ritrova anche nel discorso pubblico di Colaianni. Ecco vi ringrazio molto e spero di aver dato qualche idea, qualche spunto. Grazie Mirko per la tua puntualità e pazienza nel leggere il libro e interpretarlo. Bene, allora io direi che se qualcuno di chi ci ascolta vuole intervenire magari quelli chiamati in causa ma anche altri eventualmente liberamente diciamo non so attraverso quale sistema può farlo, come può forse la regia ci può interagire. Possono fare le domande tramite la chat di Facebook. Intanto sentiamo i curatori e nel frattempo magari arriva qualche domanda dal pubblico. Bene, allora sentiamo chi? Nessuna domanda per ora. Sentiamo Tommaso, Carlo, chi vuole dei due? Bene, provo a partire io e poi casomai lascio la parola a Carlo nonché poi anche a Saro che è stato chiamato in causa. Io ringrazio tutti l'Istituto, Isabella e Mirko che hanno discusso con noi il volume e ci tenevo appunto a sottolineare quello che è già stato detto siamo dentro come dire un'opera che è stata realmente collettiva che mirava appunto a come dire costruire una relazione virtuosa tra le ricerche già fatte da alcuni degli istituti della rete a cui peraltro diciamo noi abbiamo come è stato già ricordato chiamato una serie di studiosi e studiose che avevano lavorato su questo tema perché da un lato ci interessava anche da un punto di vista di memoria pubblica riuscire a reintrodurre questo discorso in Sicilia proprio per diciamo mettere in discussione alcune rappresentazioni più stereotipate e devo dire che la sensazione che abbiamo ad alcuni anni di distanza dall'uscita del volume e ancora di più diciamo dal in realtà poi dal convegno perché poi come succede sempre con diciamo le cose collettive sono molto stimolanti poi non sono semplici quindi è passato un po' di tempo tra convegno e poi volume però ci sembra che quest'operazione abbia funzionato e abbia anche un po' riaperto una discussione come dicevamo prima a livello nazionale detto questo provo a rispondere ad alcune delle sollecitazioni sicuramente il tema dell'insularità e quindi della necessità di un'ulteriore specificazione diciamo di cosa significa Mezzogiorno di cosa significa Sud come già è stato ricordato da Isabella è importante perché in realtà appunto non è affatto detto che coincida con il Regno del Sud ci sono situazioni e momenti diversi legati ovviamente alla guerra e in realtà poi la Sicilia da questo punto di vista rappresenta un'ulteriore particolarità per la propria storia specifica è stata richiamata il tema dell'insularità è stato quindi anche come una questione come quella diciamo della differenziazione dal resto dell'Italia che ha radici storiche diciamo per semplicità dell'autonomia se non del separatismo si va poi a collocare in quel contesto ma anche poi come dire una specificità semplicemente perché ad esempio è sostanzialmente il primo territorio in realtà dell'Europa liberato che viene gestito dagli angloamericani quindi da questo punto di vista si porta dietro questo ruolo di come dire sperimentazione su come deve funzionare la futura amministrazione da parte angloamericana diciamo degli alleati rispetto ai territori occupati dell'asse quindi come dire una serie di specificità questo della diciamo del secondo me dell'accentuazione negli studi di questa attenzione a questi aspetti il rapporto tra come dire visione nazionale e visione locale che è forse l'ulteriore passo che noi dobbiamo fare è molto emerge chiaramente in maniera significativa dallo studio della memoria pubblica come Gianmirco ha sottolineato effettivamente in Sicilia la storia siciliana il tema la questione dell'insularità la questione del come dire la creazione di autonomia politica un ripensamento comunque dei rapporti con lo Stato centrale sono un elemento fortissimo e sono un elemento fortissimo che noi ritroviamo anche nel modo poi di ripensare e riraccontare nel discorso pubblico il tema della resistenza soprattutto l'abbiamo visto da parte comunista sicuramente come dire questa relazione per esempio che è barbato che in realtà noi abbiamo visto è come dire partigiano combattente in Piemonte con un ruolo di primo piano con una lunga esperienza come dire anche precedente di formazione politica eccetera però in realtà si serve anche diciamo proprio della sua storia anche lì familiare per offrire un inquadramento del diciamo della vicenda siciliana dentro la storia nazionale in alcuni passaggi importanti che dal risorgimento ricongiungono diciamo idealmente alla resistenza tutta incentrata sulla questione dell'autonomia ovviamente questo è un discorso pubblico declinato in chiave politica e funzionale a degli obiettivi politici attraverso cui il PC prova a come dire pensare la sua azione di radicamento nel viso e da questo punto di vista è come dire secondo noi è interessante il richiamo a luglio 60 perché da un lato io credo che noi dobbiamo lavorare su queste specificità e abbiamo visto come autonomia e PC e PC diciamo per il PC l'autonomia e la resistenza sono elementi fortemente collegati in realtà attraverso questa chiave paradigmatica si costruisce si cerca perlomeno ecco poi quanto ci si riesca è un po' più complicato a costruire ad esempio un discorso di conquista o comunque di recupero dei cerimedi questo è l'altro elemento anche che ci lega al discorso all'altra sollecitazione di Mirko l'anti-antifascismo anche da questo punto di vista la Sicilia è emblematica perché come dire se nella memoria forse anche nazionale il tema della vittoria del blocco del popolo nelle elezioni regionali è passato e si tratta indubbiamente diciamo di una vittoria cioè socialisti e comunisti conquistano la maggioranza alle prime elezioni regionali hanno più di un terzo dei voti comunque ci si avvicinano ma altrettanto forte e quindi c'è poi la sfilata di Portella della Ginestra che come dire termina come noi sappiamo ma come dire in realtà se noi andiamo a mettere insieme i voti delle forze anti-antifasciste diciamo quel blocco lì è altrettanto significativo raggiunge anch'esso quasi un terzo dell'elettorato allora perché da questo punto di vista stadio nazionale e stadio locale si intrecciano perché effettivamente come dire qui noi abbiamo messi insieme una serie di elementi che ci rimandano a come dire questa forte confronto tra dei partiti di sinistra il cui successo del 47 è tanto più rilevante se noi guardiamo i dati delle elezioni amministrative del 46 nonché della Repubblica con come dire in cui quei partiti risultano molto deboli al contempo quella mobilitazione legata anche al mondo contadino ma non solo produce una controspinta diciamo così quindi un riaggregarsi delle forze antifasciste allora la resistenza diventa un elemento importante per come dire affrontare questo quadro ma viene declinata dal punto di vista della rappresentazione della memoria pubblica secondo una prospettiva tutto particolare resistenza uguale autonomia il che ovviamente è dentro una società che ha quella caratterizzazione cioè anche una presenza così forte diciamo delle destre o comunque dell'anti-antifascismo che ci aiuta a comprendere come ed è stato notato le memorie individuali diciamo dei partigiani che hanno invece come dire magari avuto un percorso di formazione politica non precedente ma come dire sviluppatosi proprio nel momento della scelta alla lotta armata antitedesca sia una memoria difficile in alcuni contesti nei grandi centri cittadini in aria in cui spesso la classe dirigente locale viene in realtà da legami forti col fascismo ovviamente come capite sempre no la scelta di inserire in un volume che si chiama siciliani la resistenza diciamo dei saggi sul sui siciliani che invece sono andati a salò comunque che hanno avuto un forte contatto ed è stato ricordato lo cito perché è stato notato tuttora diciamo noi abbiamo una biblioteca intitolata Giuseppe Maggiore che è il padre della penalistica italiana abbiamo un'aula lettere dedicata a Cucchià pace è come dire il grande padre dell'archeologia siciliana eccetera ma questo ovviamente noi abbiamo fatto non in senso denigratorio di singole figure che non avrebbe ovviamente alcun motivo di essere ma proprio per ragionare invece sul legame profondo che il fascismo aveva costruito con il paese e anche con la Sicilia e come dicevamo in un in un'area che poi in realtà nel dopoguerra mantiene per certi versi un legame molto forte anche col neofascismo che in Sicilia in molti casi ha come dire un ruolo anche a livello di governo locale importante e significativo con personalità che continuano a svolgere un ruolo per nulla secondario nella vita pubblica pensiamo semplicemente a Cucco che è vice segretario nazionale del PNF alla caduta del regime aderisce poi a Salò e diventa diciamo più volte rieletto diciamo nei collegi diciamo nei collegi siciliani poi al Parlamento a Parlamento eh italiano ecco allora da questo punto di vista noi abbiamo eh come dire questa realtà rende alcuni i discorsi magari delle figure che si eh che hanno partecipato alla resistenza che hanno avuto un ruolo anche armato di eh come dire difficile spendibilità nel dibattito pubblico l'esperienza diciamo che poi nel libro è ricordata no sono un po' i due estremi eh Nunzio di Francesco che ci mette come dire in realtà molti anni a capire che il suo discorso può avere un riscontro nel dibattito pubblico pure in realtà mantenendo una pratica eh politica un legame con forze politiche e poi invece dall'altro dall'altra parte Barbato che invece come dire appunto però ha anche una storia familiare di altro tipo molto più come dire antica per alcuni versi che invece lo spende subito allora io noi crediamo che questo volume possa aiutare a eh diciamo riconnettere questi passaggi tra storia nazionale e storia locale come dicevamo prima anche un punto importante verso capire in che modo si è declinata si sono declinate le diverse resistenze e credo che possa offrire un inizio di ragionamento per un ulteriore allargamento per l'individuazione delle delle specificità il luglio sessanta e qui chiudo no sicuramente ha quel valore nazionale che viene ricordato anche nel saggio di Andrea Miciche perché non a caso le magliette strisce ci sono anche come dire anche a Palermo dove ci sono gli scontri e nelle foto ritornano quelle magliette e però è altrettanto in dubbio che come dire la mobilitazione tra eh Palermo e Reggio Emilia abbia degli aspetti differenti a me era capitato di occuparmi di quel caso specifico a Reggio Emilia noi abbiamo una mobilitazione che è strettamente guidata ovviamente dal partito comunista perché come dire una forza politica organizzata tale da come dire come dire gestire quella situazione in realtà dato Palermitano mantiene una sua specificità nel senso che si tratta soprattutto di giovani e giovanissimi che non hanno un contatto ad esempio diretto col partito comunista e non a caso poi nel PC siciliano si accende una discussione se rivendicare o meno quegli scontri cioè quindi come interpretarli e anche lì ritorniamo nel quadro degli come dire no delle rappresentazioni del mezzogiorno che dobbiamo smontare io credo che insomma il volume cercava proprio riconnettendo in realtà facendo dialogare come dire realtà di ricerca che stavano progredendo ma che magari diciamo almeno viste da noi ovviamente faticavano poi ad arrivare qui abbiamo cercato di come dire rimettere insieme questi pezzi provando a ragionarci insieme per poi allargare il quadro questo è stato un po' il nostro tentativo grazie bene grazie Tommaso e indubbiamente c'è da essere d'accordo con te sul quadro complesso e difficile da mettere assieme non tutti gli autori del volume sono d'accordo su tutto questo attiene alla ricerca naturalmente alla capacità o volontà o voglia o predisposizione di ognuno di orientare la propria ricerca in un modo o in un altro ma attiene anche a un altro fatto cioè che quelle rappresentazioni molto politiche molto politicizzate della relazione tra Sicilia e Resistenza che erano presenti che sono state presenti nella nostra storia politico-culturale non è che siano state subito messe da parte sono anche presenti in qualche modo nel libro da parte di qualcuno nel convegno erano molto più presenti e ci furono ma anche non ricordo ci fu anche qualche malumore da parte di qualche esponente più anziano di questo quadro culturale ecc e questo è ovvio da una parte il problema di Kolaianni e certamente la spiega ci sono diversi saggi su Kolaianni quello di Matteo di Figlia di Albanese di Micichie ma poi se ne fa menzione in tutto il libro sostanzialmente Kolaianni è un protagonista assoluto della vicenda ma è quello che non riesce a scrivere il libro sulla resistenza non solo ma bisogna dire un'altra cosa che spulciando forse bisognerebbe farlo in modo più sistematico e con più tempo di quando non l'abbia potuto fare io il carteggio Kolaianni con la sua corrispondenza con i partigiani i partigiani siciliani presenti in questa corrispondenza sono solo quattro cioè Kolaianni scambia lettere con tutta l'Italia ma solo con quattro partigiani siciliani e questo significa una cosa molto importante cioè che anche per Kolaianni il cuore della resistenza è stato da un'altra parte e che la legittimazione della resistenza in Sicilia deve passare attraverso un'operazione complessa che è l'operazione politica che lui fa con l'autonomismo e il movimento condativo e però nel momento in cui lo fa è legittima quelle forze politiche soprattutto del partito comunista che erano espressioni dell'Italia resistenziale della cultura resistenziale e cambia discorso lo fa a patto di cambiare discorso perché il discorso dell'acculturazione nella situazione siciliana di acclimatare nella situazione siciliana un quadro politico una vicenda politica un partito politico comporta l'entrare in quelle specificità e lì c'è il separatismo e lì ci sono tutta una serie di vicende che bisogna prendere in considerazione l'anti-antifascismo di cui il separatismo è un aspetto importantissimo perché questi si presentano come coloro i quali non hanno mai avuto a che fare con il fascismo e dicono il fascismo è una malattia del nord questo è grande elemento ma portano avanti un discorso di conservatorismo prefascista in qualche modo che mira sostanzialmente a tutelare le classi dirigenti isolane locali e così via e lì poi potremmo aprire un discorso sull'insularità e sulla strumentalità di questo discorso io normalmente essendo stato uno studioso del separatismo quando sento l'insularità un po' mi arrangio o comunque mi allontano da questo tipo di discussioni perché la strumentalità è forte e figuriamoci se Crispi pensava di essere insulano e quindi il dato può essere questo l'altro aspetto importante della vicenda secondo me è la questione delle due generazioni mi chiedeva questa domanda Mirko e qui noi abbiamo un fatto importante cioè la Sicilia è uno dei luoghi al momento della nascita del fascismo uno dei luoghi in cui la classe politica si distingue molto dal fascismo vi si allea magari ma vi si allontana cioè ha una capacità di stabilire un potere contrattuale nei primi anni pensiamo solo a Vettore Melo Orlando che prima aderisce all'estone poi poi ne esce e lui e tanti altri questi personaggi politici si trovano nella condizione di alla fine del fascismo di rivendicare la propria straneità a quella situazione lì quindi questi sono gli antifascisti completamente poi ci sono gli antifascisti storici diciamo poi ci sono gli antifascisti di più giovane generazioni quegli operai quegli intellettuali eccetera che durante il ventennio sono cresciuti hanno maturato una posizione antifascista ma questi sono pochi e la maggior parte di loro sono addirittura impegnati nella lotta di liberazione al nord o altrove sono in galera eccetera quindi quando riparte la politica in Sicilia riparte sui sopravvissuti della prima parte del ventennio sui vecchi antifascisti i quali occupano i posti e non li mollano il caso di Placido Rizzotto è significativo perché dimostra come un partigiano molto determinato qual è lui torna a Corleone diventa un dirigente politico importante una camera del lavoro importante mette in moto delle lotte e cerca nella solidarietà degli altri partigiani un appoggio ma non riesce ad averlo perché queste poverette stando uno in un posto uno nell'altro non costituiscono un gruppo compatto sul territorio questo è un dato importantissimo i 4.000 quelli che sono partigiani siciliani che tornano stanno in 900 comuni diversi insomma questo è il dato fondamentale ci sono tre per ogni comune una cosa diversa immaginatevi Genova che significa avere interi gruppi di operai di una fabbrica di abitanti di un quartiere che hanno condiviso l'esperienza partigiana continuano a vivere a fare politica a scambiare idee e a mobilitarsi eventualmente per i trent'anni successivi per i trent'anni successivi per quello che devono fare dicono e quindi è chiaro che ci troviamo in una condizione di minorità dei resistenti e poi per tutta un'altra serie di motivi di minorità dei resistenti perché sono giovani perché sono sparsi perché sono macilenti e così via la politica e qui il dato del luglio 60 è fondamentale è la politica che rimetterà in gioco attraverso un quadro nazionale il tema della resistenza ma io che sono cresciuto in Sicilia e che nel 1960 avevo ero un ragazzino avevo undici anni e non avevo mai sentito parlare di resistenza perché nessuno ne parlava e stando in un comune rosso e le prime volte che ho visto una ripestazione antifascista è stata nel 1965 cioè in un comune rosso dove c'era una medaglia d'oro e altri personaggi di cui parlo Luigi Briganti e il partigiano Matteo eccetera erano stati combattenti questi non si vedevano non esistevano nel discorso pubblico nel progetto educativo e quello che volete e solo i partiti hanno messo in moto questa cosa ma dopo il 60 questo è veramente un dato importante e fondamentale e il partito comunista in modo particolare si è lanciato in questa questione devo aggiungere che c'è la nocera che chiedeva se sono state usate fonti ricomparte sono state usate specialmente nel saggio di Tony Roatti ed sono utilizzate in modo molto significativo e poi c'è da aggiungere devo aggiungere prima di chiudere un'altra cosa e di dare la parola eventualmente a chi la richiede che è stato indubbiamente importante la sponda diciamo in questa vicenda ma anche precedentemente dell'istituto piemontese e di Claudio della Valle che ha lanciato per primo una ricerca sui partigiani meridionali in Piemonte anche lì e a Torino anche lì un elemento importante di legittimazione politica cioè una città che viene considerata la più grande città meridionale d'Italia non poteva non prendere in considerazione il fatto che alla sua liberazione avevano partecipato una quantità notevolissima di meridionali bene grazie per l'attenzione chi vuole parlare c'è forse Carlo che desidera dire qualcosa o altri che vogliono chiedere io dico solo due cose grazie per aver voluto presentare il libro a distanza di qualche tempo dalla sua uscita ringrazio ovviamente Isabella Insolvibile per la lettura attenta esaustiva e completa che ha eseguito Mirko naturalmente e Saro ma Saro è uno degli autori quindi l'ho già ringraziato per aver partecipato sia all'organizzazione ampiamente sia all'organizzazione scientifica del convegno che nasce in ambito istituto Gramsci siciliano un convegno come è stato ricordato nel 2016 da un progetto essenzialmente di Tommaso e del comitato scientifico del Gramsci progetto presentato alla struttura che si occupava dell'anniversario della resistenza ovviamente diciamo eravamo da un ovvio intento scientifico e conoscitivo che si sposava e si sposa e la presentazione di oggi ce lo conferma con un intento come dire più pubblico e più civile che era quello essenzialmente di mettere assieme i pezzi e essenzialmente di provare con un progetto scientifico di contribuire al dibattito pubblico e provare anche con un contributo scientifico a cercare di rompere questa questa bulgata che purtroppo è sempre più forte della marginalità del mezzogiorno e della sicilia in quanto quintessenza in qualche modo delle caratteristiche del mezzogiorno la marginalità del mezzogiorno nella storia nazionale questo era l'obiettivo come dire più largo che si sposava con l'obiettivo conoscitivo che portavamo avanti e che portiamo avanti come storiche e come storici il modello che un po' abbiamo seguito è quello che Isabella conosce molto bene perché ha partecipato a quel volume il volume sulla partecipazione del mezzogiorno alla guerra di operazione volume che se non sbaglio è uscito nel 2017 che tirava le fila di una serie di convegni con un progetto essenzialmente se non sbaglio dell'anti nazionale noi abbiamo come dire cercato di inserirci in quel filo portando come dire degli elementi specifici che non facevano altro che confermare quell'impianto due cose e poi lascio la parola ad eventuali domande e commenti ovviamente diciamo l'attenzione ai meridionali e ai ciliani nel caso di specie nasce sia da un cambio di paradigma che è quello come dire legato al fatto che non diciamo che gli storici hanno smesso di pensare e di studiare e di porre l'attenzione essenzialmente agli esiti della resistenza ma hanno incominciato a guardare alle soggettività che l'hanno fatta la resistenza e dall'altra parte abbiamo come sempre succede accanto ai cambi di paradigma anche le nuove fonti che che vengono a disposizione degli storici e quindi essenzialmente questo questo enorme e ancora sicuramente per quello che riguarda la parte dei siciliani e delle siciliane poco esplorato archivio del ricomparta no e questo insomma io ora mi ritaccio anche perché rischio di ripetere di ripetere di ripetere cose già dette e anche perché vedo che ci sono delle domande da chi ci ascolta e le vorrei leggere ecco ringrazio ancora Mirko Isabella Saro Tommaso tutti gli autori e l'autrice e l'autrici e chi ci sta ascoltando il 21 luglio il 21 giugno con questo canto grazie bene Carlo grazie Aldo Borghieti chiede dei sardi ma quello poi sarà il prossimo libro eventualmente secondo me Aldo chiede dei sardi in relazione ai siciliani chiede se la situazione della sarda dei sardi è simile a quella dei siciliani insomma la prima parte e dobbiamo studiare quella dei sardi così poi magari le confrontiamo dico aspetta a lui parlo naturalmente ognuno di noi può partecipare a questo studio volentieri d'accordo ci sono altre domande? sono solo quelle che avete insomma Fabrizio non c'era chiede appunto sono state utilizzate le fonti del Ricopar ma Carlo ha già sostanzialmente dato una prima risposta insomma ma se poi volete approfondire appunto Aldo chiede se anche in Sicilia la situazione che riguarda la visione della resistenza sul piano quantitativo militari incidono anche i militari esatto in S.P.E quindi militari in servizio permanente effettivo cioè che erano alle armi da quello che ho letto dei loro saggi sì i militari hanno un ruolo importante come del resto in tutta la resistenza e poi appunto chiede scusami finisci finisci no 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 scusa tu stavo rispondendo velocemente certo e poi aggiunge sempre Aldo chiede un'altra cosa riguardo la memoria della resistenza che in Sardegna appunto negli anni 50 sostanzialmente sparisce si scioglie anche l'ampi locale sottolinea per poi riemergere molti anni dopo e quindi chiede se in Sicilia succede qualcosa di analogo oppure no diciamo che a questo Saro rispondi tu prego che stavo dicendo che avevi già il posto quindi no no ma l'abbiamo detto in qualche modo probabilmente ci siamo intersecati certo scompare nel senso che si utilizza quella tipo un'operazione complessa che è quella di Colai Anni di assimilare la resistenza cioè o almeno le lotte contadine e l'autonomia ma lui più l'autonomia al movimento di resistenza che poi è una vulgata ancora esistente a Palermo in alcune aree della sinistra palermitana forse Tommaso che frequenta e Carlo che frequentano di più di me lo possono sapere e forse Lampi palermitano è ancora molto affezionato a questa idea e lì c'è una bella differenza tra la memoria della Sicilia occidentale e quella della Sicilia orientale quella palermitana della Sicilia occidentale e la memoria di Colai Anni e poi ripresa da Renda ripresa da tanti altri eccetera successivamente mentre invece la memoria della Sicilia orientale è quella elaborata diciamo da Pezzino che non era uno storico ma era un coltissimo uomo politico un esponente del Partito Comunista il quale usa la rivolta di Mascaluccia la strage di Castiglione tutta una serie di altre operazioni vicende tragiche accadute durante la battaglia durante metà luglio primi di agosto eccetera del 43 per dire in Sicilia c'è stata una resistenza questa è una resistenza poi c'è una cosa comica che è un articolo di Igor Mann pubblicato nel 1945 su un giornale genovese il lavoratore dove dice pure la resistenza comincia in Sicilia e sfruttando il mito quarantottesco 1848 della Sicilia rivoluzionaria e avendo sentito dire forse così vagamente di questa vicenda di Mascaluccia e altre cose e così via monta un quadro del tutto fantasioso in cui appunto c'è questa isola delle rivoluzioni che conferma la propria fama di rivoluzionari ma questo è un dato curioso anche un po' comico devo dire naturalmente sappiamo che Igor Mann è di origine siciliana un dato importante quindi c'è questa così mitica mitico racconto che non fa i conti con il dato della resistenza ma fa i conti sicuramente con l'esigenza della politica dei partiti politici quelli più interessati a collegarsi con questo mito di fondazione dell'Italia repubblicana per trovare una strada la vera strada sarà trovata e Michichie ce lo dice molto bene nel suo saggio sarà trovata con luglio 60 ma non da un'elaborazione politica quanto da un accavallarsi di eventi che mettono all'ordine del giorno in Italia l'antifascismo il rifiuto del governo Tambroni eccetera e in tutto questo ci rientrano le vicende siciliane che sono vicende sociali sostanzialmente anche c'è un morto a Licata ci sono dei morti a Palermo ci sono i morti in tutta la Sicilia c'è uno stato di agitazione dovuto a disoccupazione dovuto anche ai temi dello sviluppo stiamo attenti Catania esplode perché è una città che in dieci anni è aumentata la sua popolazione è aumentata di centomila abitanti Catania 1950 1960 ha centomila abitanti in più nonostante l'immigrazione al nord e altrove c'è una grande immigrazione in città dovuta al sviluppo edilizio della città e anche ad altre vicende economiche e però tutto questo crea un disagio straordinario per cui appunto il morto Salvatore Novembre è un immigrato uno di questi immigrati un edile che viene dai paesi dell'interno che abita in una baraccopoli eccetera eccetera e quindi è una storia estremamente significativa questo si viene a collegare con l'antifascismo nel quadro più generale e riapre il discorso sull'antifascismo ma anche a livello generazionale i nostri amici e sessantottini più anziani erano tutti si erano formati in luglio sessantino se posso dire un'ultima cosa forse anche per interloquire con l'ultima domanda forse un elemento interessante è in realtà vedere se poi anche in Sardegna da parte delle forze delle sinistre in PC nel PC c'è stato questo tentativo di legare che nel caso si chiama è molto evidente come dire esperienza resistenziale autonomia ovviamente realizzando l'abbiamo detto prima una curvatura una forzatura di quella connessione però è diventato un discorso diciamo legittimante usato a quel livello lì dentro una come è stata ricordata da Saro complessa strategia sostanzialmente il partito siciliano diciamo la parte il partito siciliano come dire un po' come succede nel mezzogiorno è accusato di plebeismo da parte di Togliatti cioè bisogna recuperare i scelimenti il discorso sull'autonomia è un discorso che è anche funzionale a trasformare un partito che era forte soprattutto nelle campagne tant'è vero che l'ha ricordato Sara poi no la grande mitologia anche no del radicamento che passa per le lotte contadino però per Togliatti questo è anche un limite che va superato dentro il ragionamento sul partito nuovo e quindi c'è di medi autonomia recupero di un come dire di una tradizione da declinare in senso positivo contro il conservatorismo ovviamente con tutti gli elementi problematici poiché questo racconto Sara l'ha ricordato l'autonomia poi in realtà nella dialettica politica del PC è anche legata alle forze popolari che dovrebbero innescare a partire dall'autonomia stessa lo sviluppo e quindi da questo punto di vista sarebbe interessante capire se invece anche in Sardegna succede qualcosa di analogo e lì torniamo alla necessità di ampliare le nostre discussioni come è molto forte invece questo questo tentativo di tenere una connessione tra lotte contadine e memoria resistenziale da questo punto di vista questo ci aiuta a capire perché il passato partigiano di Rizzotto sia sempre evocato e quindi molto presente nell'immaginario anche nei film eccetera ma poi in realtà paradossalmente poco approfondito poco studiato perché non siamo come dire anche capendo in realtà quanto effettivamente abbia influito sia nella sua formazione che anche dopo se effettivamente ha influito nel considerarlo un elemento pericoloso effettivamente poi noi e lo diceva Sara non sappiamo però quante quanto possa essere quel caso paradigmatico cioè quanto noi possiamo generalizzarlo se effettivamente sono stati tanti partigiani tornati che poi abbiano hanno continuato a fare attività politiche queste sarebbero tutte cose da studiare l'ultima cosa sull'antifascismo l'antifascismo negli anni 60 è come diceva Sara un antifascismo sociale però già il caso di Palermo è interessante perché ci dice una serie di cose uno degli uccisi è un giovane sedicenne un fontaniere come si trova si trova scritto nell'epoca cioè una delle diciamo figure massimamente precarie c'è poi invece l'uccisione di Francesco Vella che invece un operaio e non a caso poi esiste una memoria anche palermitana nella sinistra con circoli politici titolati al suo nome a cui nella memoria orale ad esempio Vella viene colpito alla testa quindi nella memoria orale è passata l'idea che sia stato volutamente diciamo colpito alla testa dalle forze dell'ordine proprio perché è noto come attivista comunista e poi c'è una signora che invece viene colpita da proiettili vaganti mentre addirittura è affacciata diciamo dal balcone di casa sua dentro dicevamo prima quella diciamo dimensione sociale che ha già ricordato Saro per cui diciamo il PC per cui ad esempio il corte operaio che parte dai cantieri Navà che effettivamente è diciamo la parte organizzata non riesce neppure a arrivare in piazza perché già ci sono stati scontri generalizzati con le forze dell'ordine in cui Pio La Torri interviene in realtà per calmare gli ami gli animi pacificare a parte c'è quella dimensione di come dire di crisi sociali che produce un nuovo una nuova idea di antifascismo in cui come dire il problema non è solo e tanto il movimento sociale al governo ma diciamo la più generale assenza di diritti di riconoscimenti sociali eccetera allora come vediamo come dire specificità e però questo è anche come dire poi un grande tema nazionale in realtà mi è capitato in realtà diciamo di vedere le relazioni della direzione del PC beh sono anche a Genova in realtà il PC nelle sue diciamo nella direzione ammette di non come dire di non controllare i movimenti dei giovani che hanno portato poi allo scontro in gran parte diciamo sono come dire non sono stati in realtà gestiti dal partito come invece è il caso di di Reggio Emilia quindi anche qui noi abbiamo come dire richiami a situazioni più generali con elementi specifici scusate posso aggiungere qualcosa sul ricomparto visto che è stato evocato e intanto volevo anch'io salutare e ringraziare Claudio della Valle perché è l'istituto di Torino negli anni 90 il primo che ha creduto nell'importanza di questo fonte e ci ha lavorato poi declinando il lavoro anche nella dimensione della partecipazione meridionale poi volevo salutare Enzo Fimiani che ha curato il libro a cui faceva riferimento Carlo che rappresenta una seconda stagione di studi promossa dall'Ampira Nazionale cui hanno partecipato tra l'altro Isabella così come Chiara Donati e Tony Rovatti che è presente qui nel libro che hanno fatto un lavoraccio come Isabella può riferirci cioè una prima mappatura dell'enorme numero di cartelle di fascicoli del ricomparto oggi siamo ad un passo ancora ulteriore quindi colgo l'occasione per dire che adesso appunto è a disposizione di tutti un database non ancora completo ma molto significativo relativamente ai riconoscimenti sul portale partigianeditalia.it realizzato dall'istituto pari insieme con l'ICAR ebbene se noi andiamo a consultare oggi questo database con la curiosità di quanti fossero i partigiani siciliani riconosciuti pur con tutte le valutazioni di cautela che troviamo anche nel libro per cui sappiamo che non tutti chiedono riconoscimento e non tutti lo ottengono anche per motivi strettamente politici però oggi su oltre 400.000 schede mancano ancora numerosi partigiani di Lombardia Toscana e il Triveneto quindi presumibilmente ci sarà un ulteriore aumento significativo però siamo già più di 5.000 partigiani nati in Sicilia soprattutto a Palermo più di 1200 però per esempio ci sono anche oltre a Catania ci sono anche quasi più di 800 partigiani nati a Messina e più di 500 ad Agrigento questo è un dato che ho ricavato brevemente consultando il database oggi però dicevo appunto che nei prossimi mesi con un'ulteriore convenzione arriveremo ad aggiungere anche le regioni che mancano però in ogni caso possiamo già quantificare diciamo direi circa 7.000 partigiani siciliani che sono il numero dei partigiani abruzzesi o partigiani quindi per dire confronto tra la Sicilia e il resto dell'Italia e aggiungo una nota di colore giusto per concludere allegramente sto facendo anche sulla base di questo ricompare una ricerca per rievocare battaglia che viene citato da Luca Valdissara sui nomi di battaglia dei partigiani ebbene c'è anche un partigiano di Caltanissetta Giuseppe Passare che è l'unico che sceglie come nome di battaglia Sicilia quindi lo vogliamo ricordare oggi in questa in questa circostanza secondo battaglione Garibaldi seconda brigata Garibaldi in Piemonte bene allora ci sono altre altre domande vorrei ricordare alla fine che quando l'unico di Francesco nel 50 partecipò alle lotte per l'occupazione della Ducea di Nelson fu denunciato per occupazione di terre ma l'estensore della denuncia aggiunse che aveva dei precedenti penali era stata a Mauthausen quindi questo per dire in quale clima si trovava c'è una domanda in realtà di Monica Bergamaschi che manifestava le sue difficoltà raggiungere le carte diciamo così conservate presso i comuni e chiedeva se effettivamente avevate riscontrato le stesse difficoltà anche voi carte relative a partigiani o comunque carte di ricerca a parte questo c'è Aldo Borghesi che ha risposto alla domanda di Tommaso ma insomma lo potete andare a leggere eventualmente su Facebook e poi altre considerazioni ma nessun'altra domanda va bene allora se non ci sono altre domande o altre cose da dire dico non lo so ci salutiamo oppure qualcuno vuole ancora intervenire a conclusione siete fuggiti tutti quindi direi che possiamo possiamo chiudere forse bene allora ringraziamo quanti hanno avuto la pazienza di seguirci finora e anche quelli che ci hanno abbandonati prima e quelli che ci vedranno in differita diciamo così e ringrazio l'istituto Parri soprattutto e Mirco il suo direttore per l'opportunità che ci è stata data di dialogo tra questa lontana parte dell'Italia e dell'Europa e il resto del rete degli istituti e degli appassionati o interessati a questo tipo di argomenti ringrazio anche gli altri amici intervenuti e Isabella che ha avuto la cortesia di leggere con una grande fume come il suo solito il libro ringrazio i due curatori Carlo Verri e Tommaso Baris coloro i quali hanno mandato delle domande purtroppo in questa modalità non si può stare a chiacchierare a discutere e vabbè anche gli altri ringraziano naturalmente anche gli altri organizzatori l'Istituto Gramsci l'Issico e la società di storia patria di Catania bene speriamo di vederci in presenza in occasioni altrettanto simpatiche e intanto buona serata a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti